Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati nelle pagelle di Juventus-Atalanta 2-2. È l'11 marzo 2024, la Juventus in questo momento al terzo posto in classifica e si prepara ad affrontare una sfida col Genoa prima della pausa nazionale che racconterà tanto di questa anche corsa legata alla Champions League perché io ritengo ancora la Juventus abbastanza messa bene per quella che è la qualificazione alla Champions ma è ovvio che se la Juve non ricomincia a fare punti in fretta dato che nelle ultime sette partite ha vinto soltanto una volta concludendo le altre o con un pareggio o con una sconfitta e in sei occasioni è decisamente troppo beh allora poi i conti iniziano a diventare un po' più problematici. Voglio passarvi anche il video che ho pubblicato questa mattina molto presto alle ore 7 vi ringrazio perché è andato molto bene e in cui andiamo a raccontare un po' quelle che sono state le dichiarazioni di Allegri. Allegri stesso che è il primo che andiamo ad analizzare oggi e io devo dirvi la verità non ho appressato la partita della Juve non l'ho appressata perché io credo di riassumerla abbastanza così la partita della Juve un primo tempo da 0-0 in cui l'Atalanta ci fa un gol in maniera furba e le parole di Pasalic qua devono essere un vero e proprio monito perché Pasalic ci fa capire che per tutte le volte che hanno provato questo schema non erano riusciti a farlo perché le altre squadre l'avevano studiato sinceramente farmi prendere in giro anche dei giocatori avversari anche no anche no dato che è uno schema banale magari mi viene da pensare perché noi non lo proviamo mai una roba del genere nel primo tempo abbiamo battuto 4 punizioni una roba del genere e abbiamo sempre beccato la barriera invece sarebbe stato molto facile cercare di fare una roba del genere la Juventus il primo tempo fa meglio dell'Atalanta? sì, indubbiamente ma l'unica vera occasione da gol è un colpo di testa di Miretti su un cross di chiesa decisamente troppo poco per quello parlo di partita da 0-0 poi se le partite da 0-0 in questo momento sono diventate prestazioni di livello allora io qui alzo la mano, faccio un passo indietro ma non sono d'accordo qui si entra nel campo delle opinioni la mia opinione è questa che il primo tempo è stato un primo tempo brutto primo tempo che doveva finire 0-0 in cui vai sotto perché non sei stato particolarmente attento agli avversari ancora una volta prendi gol a difesa schierata su un calcio da fermo e in secondo tempo invece provi ad aumentare ad alzare il baricentro della squadra provi ad alzare la velocità di manovra riesci anche a mettere sotto l'Atalanta in 15-20 minuti crei 4-5 palle gol interessanti dove poi addirittura in due occasioni trovi il gol ribalti la partita vai in vantaggio poi ti abbassi ancora una volta e prendi l'ennesimo gol anche qui a difesa schierata perché la Juventus difendeva 4-4-2 in occasione del gol del 2-2 dell'Atalanta e un banale movimento senza palla di Commeiner si ha tagliato la difesa della Juventus come burro c'erano 11 giocatori della Juve dietro la linea del pallone o comunque nella metà campo difensiva e siamo riusciti comunque a subire gol perché non seguiamo i movimenti degli avversari perché non difendiamo bene è facile dire bisogna prendere meno gol poi bisogna anche cercare di fare in modo che questa cosa possa avvenire perché se no allora gli allenatori lo possiamo fare tutti entra uno spogliatoio ragazzi bisogna prendere meno gol bisogna fare più gol stop fate non funziona proprio così la gestione dei cambi anche non mi è piaciuta non mi è piaciuta perché tanto fatico a trovare il senso di togliere Cambiaso e di inserire Alexandro fatico a trovare il senso di inserire Ildiz a pochi minuti dalla fine e poi ribadisco quando la Juve dà la possibilità la sensazione di poter fare male alla difesa dell'Atalanta che sta ballando è lì che non sa più come prenderci noi ci abbassiamo ma ragazzi nel calcio si prova anche a chiudere le partite ogni tanto ci si prova perlomeno poi magari non ci si riesce ma a me io continuo a leggere nei commenti che cosa fai? vai all'arrembaggio? e rischi di prendere gol? beh allora andiamo tutti dietro la linea del pallone tutti nella nostra metà campo a difesa schierata con dieci giocatori e poi prendi un gol lo stesso cioè non c'è una correlazione sul fatto che se ti abbassi il gol non lo prendi più prova a chiudere la partita quindi la partita di ieri a me non è piaciuta ragazzi è una partita migliore rispetto a quella col frosinone l'Udinese e l'Empoli sì d'accordo ma era uno standard talmente basso quello che non mi sembra uno standard di riferimento quello di ieri col Napoli la Juventus non meritava di perdere poi per me non meritava neanche di vincere così come la partita di ieri anche perché ribadisco l'Atalanta è sembrata tutt'altro che irresistibile e se la Juve fa la sua prestazione come ha fatto nel secondo tempo dove crea quelle occasioni da gol per tutti i 90 minuti e quelle sono scelte di gestione della partita la Juventus questa partita la porta a casa perché gli avversari non erano così irresistibili questa è un po' la mia lettura quindi la valutazione lo sapete da Napoli in poi all'allenatore non lo do più perché è una discussione troppo polarizzata voglio semplicemente dirvi quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto e ieri la Juventus non mi è piaciuta in generale Scesni voto 5 e mezzo perché io sono ancora convinto che sul secondo gol potesse fare qualcosa di meglio sarebbe interessante sapere anche un po' la sua opinione però sono andato a rivedermelo e effettivamente c'è una devestrina di Danilo che va a complicare la parata poi per me rimane ancora comunque un errore poi diventa un errore meno grande di come l'avevo pensato subito in presa diretta però ho visto che tanti pagilisti addirittura gli danno 6 o 6 e mezzo secondo me la responsabilità sul gol c'è attutita un pochino riassorbita dalla deviazione di Danilo però sul secondo gol secondo me si poteva fare meglio poi siamo sempre qua che andiamo ad analizzare gli episodi purtroppo andiamo ad analizzare gli episodi perché la Juve tende a provare a togliere la testa dal guscio a far uscire la testa dal guscio soltanto una ventina di minuti e gli altri 70 allora sei obbligato a raccontare eh questo ho sbagliato qui questo ho sbagliato qui quell'altro ho sbagliato lì e ci arriveremo perché secondo me Bremer e Danilo tutti e due li metto insieme fanno un errore in occasione del gol proprio del 2-2 dico Meiners oltre al fatto che sul primo gol tutta la Juve è colpevole perché nessuno lo legge non è stato preparato non è stata visionata quella situazione e bla 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 però Bremer e Danilo Bremer si fa tagliare fuori dal movimento e crea tra virgolette quel buco e Danilo poco reattivo ma anche in generale adesso per me la partita di Bremer è stata positiva perché comunque nella lotta contro Scamacca si fa superare soltanto in occasione appunto della punizione che provoca l'1-0 dell'Atalanta di Kopp Meiners credo che sia stato uno dei pochi rari casi in cui Bremer è andato a perdere il duello con Scamacca su Danilo io non ho la percezione di solidità ragazzi mi dispiace io in questo momento ritengo Rugani più affidabile di Danilo che non significa che sia più forte ho detto che in questo momento lo ritengo più affidabile mi sembra un giocatore che riesce a dare di più Danilo era tornato da un infortunio ed era tornato non benissimo ha subito un altro infortunio e adesso è tornato per la prima volta io in questo momento faccio fatica a vedere un Danilo che ha i gradi di titolare inamovibile nella Juve e questo è un bel peccato secondo me perché Danilo aveva fatto delle stagioni di livello nelle passate e quest'anno è per la prima volta il capitano della Juve a tutti gli effetti ma non riesce più a dare quello che dava prima secondo me poi momento passeggero può migliorare boh non lo so vediamo oggi questa è la mia lettura su Danilo su Gatti è sempre più efficace quando non fa il difensore Allegri ha spiegato che avevano provato questa costruzione a quattro per cercare di far uscire a vuoto la pressione uno contro uno dell'Atalanta perfetto quindi Gatti molto più spostato a destra largo a salire infatti io Gatti nella partita ieri me lo ricordo quando prende palla va sulla destra fa praticamente l'ala fa sportellate con tutti ha questo fisico che è un armadio e una statua e riesce a guadagnare posizione sugli avversari questo è quello per cui mi ricordo Gatti ieri siamo sempre lì ragazzi la difesa ieri non ha dato delle belle vibrazioni mi ha dato delle sensazioni di essere una squadra che non ha idea nemmeno più di come si difenda perché prima la Juventus difendeva in tanti e questo difendere in tanti aiutava invece adesso la Juventus difende ancora in tanti però probabilmente gli avversari che hanno studiato la Juventus magari a differenza nostra che siamo stati impreparati su quella punizione hanno capito come fare male a maggior ragione una squadra che adesso non sa più nemmeno da che parte girata per dover andare a fare gol 5 e mezzo healing partita strana primo tempo in cui non mi è piaciuto secondo tempo invece dove la Juventus ha spinto un po' di più mi è piaciuto decisamente di più ancora non una prestazione assurda ripeto per me è un giocatore più offensivo rispetto al 3-5-2 mi fa piacere però vedrò al posto di Kostic perché è qualcosa in più rispetto a Kostic mi sembra darlo anche se ovviamente i risultati continuano ad arrivare ma non è che mi aggrappo a healing per questa roba qui Miretti 5 e mezzo una partita secondo me dove Miretti nel primo tempo è stato un mix tra tante cose buone e tante cose cattive perché errori tecnici a go go però personalità nel provarli io su Miretti sono molto combattuto la mia valutazione su Miretti è che ci sia del potenziale ma che abbia bisogno di essere preso per mano la mia speranza era di vederlo in prestito in questa stagione oggi non può essere titolare nella Juve oggi non può essere nemmeno una riserva per me nella Juve perché ha bisogno di migliorare ancora tanto e questo passa da lui ma soprattutto passa da un progetto che lo mette al centro e questo progetto non può essere la Juventus secondo me però queste sono le mie letture su Miretti che per me non è un giocatore scarso è un giocatore che ha necessità di far sbocciare il suo potenziale poi magari mi sbaglio come magari mi sbaglio su Locatelli che ieri fa una partita da 5 secco secco tanti passaggi sbagliati ma anche banali tante letture però io anche qui ancora su Locatelli non mi voglio arrendere io prima di giudicare dei giocatori che negli ultimi tre anni sono stati inseriti in questi contesti tattici difficili complicati voglio vedere questi giocatori che vanno a fare anche solo almeno una stagione con l'idea di fare la partita perché la Juventus si scende in campo sempre con l'idea di non farla la partita ok io Locatelli Miletti Chiesa Vlaovic Cambiasco li voglio vedere scendere in campo con l'idea di farla la partita e fino a quel momento io il giudizio definitivo su questi calcitori non lo do poi lo do sulla singola partita Locatelli 5 ha sbagliato tantissimo è una partita pienamente e ampiamente insufficiente e si becca l'insufficienza McKennie voto 8 un applauso se lo merita se lo merita 8 come il suo vecchio numero di maglia non 9 come i suoi assi stagionali però 8 sono anche due palle ce le giriamo proviamo a girare l'8 a qualche grado e McKennie due palle così ce le ha perché McKennie ragazzi che fa sta partita qua con anche la spalla lussata il tutore il dolore ora ragazzi bisogna rendere omaggio a questo ragazzo qua davvero complimenti Weston l'assista Cambiaso è meraviglioso tecnico l'assista Milik è perfetto fisico di sponda da attaccante vero da boa questo è un giocatore che è diventato importantissimo bisogna capire se è una stagione in cui è particolarmente in forma o se lui è sbocciato definitivamente dopo quei 6 mesi complicati in Premier nel dubbio io gli rinnovererei il contratto che scade il 2025 poi vedete voi che cosa fare ma McKennie è diventato un giocatore totale voto 7 a Cambiaso quella piccola scintilla speranza luce in fondo al tunnel che vedono la Juventus si chiama Andrea Cambiaso perché è un giocatore che sa fare tutto tutto sa fare è iniziato a fare pure gol ha fatto un gol anche intelligentissimo con il destro ad anticipare l'uscita del portiere tante volte Cambiaso è entrato dentro l'azione per la Juve nei momenti difficili viene sempre fuori e si becca il suo 7 in pagella voto 6 a Chiesa ci ho pensato tanto a quale valutazione attribuire a Federico perché a me è piaciuta la partita di Federico in generale è stata una partita elettrica una partita di quella ad alto voltaggio di quella in cui Chiesa prova a entrare nella gara l'assista a Miretti nel primo tempo il recupero di palla nel secondo tempo che dà il via l'azione del gol di Cambiaso tante volte che Chiesa ha preso palla e ha puntato agli avversari a volte anche tirato anche eccessivamente perché erano decisioni un po' forzate poi Chiesa sbaglia non dico tanto il gol a giro che quello era in fuorigioco ma la seconda occasione è quella di sinistro dove sbaglia completamente l'angolo e quella è un'occasione importante che siccome fa abbassare il voto di Chiesa ma rimane una partita positiva però qui una riflessione la voglio fare perché a Napoli esattamente quel tipo di azione da quella posizione in cui tira ma col destro la incrocia bene col sinistro la incrocia male e allora mi sembra quasi di capire che Chiesa faccia molto meglio ad arrivare in quella zona partendo da destra per calciare in porta perché una volta da sinistra Chiesa cosa faceva? Il tiro a giro cercava molto di angolarla come ha fatto appunto in occasione di quella possibilità in cui era purtroppo in fuorigioco ma aveva provato il colpo a biliardo quindi io arrivato a questo punto ragazzi cioè mancano dieci partite di Serie A due di Coppa Italia e si spera tre bancano dodici o al massimo tredici partite per concludere l'anno inizia un mini campionato in cui la Juventus ha dieci punti di vantaggio sulle altre ma santo il signore ma proviamo a fare quel qualcosa in più senza accontentarci dei primi tempi da zero a zero o da recuperare un punto sul Bologna ottenere l'Atalanta a meno undici oh ma siamo la Juventus ma proviamo un qualcosa in più Ildis deve stare in panchina e giocare tre minuti in questa Juve qui per me no mettiamolo titolare a sinistra Chiesa a destra Vlaovic in mezzo McKennie a centrocampo Rabiot a centrocampo Locatelli il titolare davanti alla difesa e dietro ti organizzi cerchi di fare in modo hai Bremer hai Danilo hai Cambiaso hai Rugani ma guarda ti dico hai pure Alexandro mettici pure Alexandro terzino sinistro terzino destro metti Cambiaso metti Danilo e Bremer in mezzo anche se io non la giocherei così giocherei con Rugani e con Danilo spostato sull'esterno non tanto per la spinta che in questo momento non può dare ma per un po' anche di equilibrio quando Cambiaso si alza perché con giocatori si alza Chiesa non importa ma gioca con sto 4-3-3 cosa stiamo qui a ragionare a pensare cavolo significa che con il 4-3-3 le perdi tutte 10 da qui alla fine proviamo a mettere questi giocatori nelle loro condizioni per fare al meglio poi sbagliano certo sbaglieranno indubbiamente ci mancherebbe altro Locatelli ha preso 5 Chiesa ha fatto una partita secondo me buona ma quell'errore li pesa però proviamo ad esaltarli questi giocatori invece sempre di castrarli sempre dietro la linea del pallone sempre bassi passivi ad aspettare che gli altri arrivino sempre dopo è stancante ragazzi dopo diventa veramente stancante voto 6 e mezzo a Milik una partita non bella di Milik però poi l'unica palla giocabile fa gol cosa gli devi dire a un attaccante che ha un tiro a disposizione e fa gol e gli do 6 e mezzo e gli dico pure bravo Nicolussi senza voto perché è entrato e non c'era tempo Ken senza voto mi sono ricordato dell'ingresso di Ken soltanto perché ha inciato uno mi ha detto ma è Ken ragazzi quante palle ha toccato non avevo assolutamente visto Moise senza voto anche per Wea boh è entrato non me lo ricordo sinceramente quando sono andato a reperire le informazioni per le pagelle ho letto Wea ho detto ah molto bene non me lo ricordavo assolutamente senza voto ad Alexandro inspiegabile perché metterlo su in un momento in cui la Juventus non sta vincendo la partita si voleva difendere il pari con l'Atalanta in casa molto bene fantastico senza voto pure Ildis perché un giocatore come Ildis che gioca 4 minuti più recupero in questa Juventus secondo me non ha alcun tipo di senso logico questa è la mia analisi di Juventus-Atalanta 2-2 fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e iniziamo a pensare alle prossime partite al Genoa e a tutto il resto ne parleremo abbiamo tanto di cui discutere ciao